ciao a tutti amici ecco la penultima fase dobbiamo rubare le moto rubare le moto dai lost scusate scritto lì e che proprio vicino al casino per il colpo della banca pacific standard ho visto che c'è una macchina che utilizzavo io che è molto bella con la minigun peccato che ha poca protezione però un'arma molto molto efficace e puoi utilizzarla da solo soltanto e quando la usi da solo cambia la posizione della macchina un po non proprio in linea comunque e si chiama la tampa tampa armata costa e comunque la potete trovare su var shop e quella lì che andando giù c'ha due minigun sopra fatto fuori subito un paio guarda questo momento mi ammazza chi è che è morto dvn 19 8 8 che nomi strani ho sistemato l'arma vediamo adesso mk ne aveva praticamente ne ho quattro la pistola il mitra mk d'assalto è un altro mk adesso non sono qui non posso ricordarmi tutto a memoria ho preferito un altro mk non d'assalto e così ho tutte le munizioni tantissime non più limitate ok 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 questo è molto più efficace c'è dammi un po di grana dove cazzo vado dove sto andando cosa fa questo ecco la tampa vedete due minigun sopra molto bella l'ho venduta tanto io sono uno che prova le cose poi dopo poi dopo mollo qualcuno come fa a morire questo perché non ci aspetta vabbè troppo a fretta che c'è che c'è Santa Maria Oh There's a bike each we need all four for the job When you've got a stash him in the alley for the job It's like the lost are mobilizing their troops A wrecked bike is no good to us people Stay out in front of them Tanto muoio Svenk è morto Svenk vediamo con che livello è 42 Ci stiamo mettendo un bel po' Speriamo Vabbè la fine è diversa Speriamo Grazie a tutti ma come mai non c'ho il mezzo qui in realtà questa qua si fa con la kuruma che io ho venduto pure perché tanto ho detto non faccio più colpi guarda guarda che bastardi questi qui con le macchine si tutto fumo e niente arrosto mi stanno sparando un altro morto iniziano a scendere la stanchezza io non sono stanco eppure faccio molte ore qui quando inizio si beh infatti il mio livello sta salendo ancora quindi ogni giorno uno o due livelli salgo mi sembra due al giorno ma dov'è io non vedo oh ecco lì oh 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 non ho preso pure a me e per forza lì davanti cosa vuoi fare con sta cazzo di tampa ma tutti cercano la medaglia da eroe quella più alta che per fare uccisioni niente di più però siamo ancora qui non abbiamo concluso niente chissà il finale come sarà sarà io continuo a spendere soldi con lanciarazzi qui è costoso la macchina è un chilometro lasciamo stare la mia macchina perché ci vuole la kuruma la kuruma io la riprendo comunque non costa tanto la mina così vaffanculo a bastardi ah io non li spreco arrangiatemi arrangiatemi guarda questo è un posto di merda veramente sono tutti vivi e cosa prese che li prende vedete come escono ah dai togliti con sta cosa guarda è ancora vivo basta che c'ha la tampa basta che c'ha la tampa dov'è la cola faccio prima qui l'hanno presa dov'è la moto dove cavolo è dov'è la moto ok a meno questo la sa strada quella migliore speriamo che ecco guarda 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 Porca troia! Ma guarda un po'! Ma che cazzo è la Rockstar, cazzo? Che è in mezzo ai coglioni! Cazzo! È in mezzo ai coglioni la Rockstar! Mi ha rotto la minchia! E che cazzo! Sono davanti perché facciamo i soldi puliti! Siamo bravi? E Dio santo, Dio! Cazzo! Guarda, le macchie ti vengono addosso apposta! Lui è venuto a recuperarmi! Guarda, guarda! Guarda il host! Guarda, guarda, guarda! Qua dietro, guarda, sono già arrivato! 18 minuti cazzo ho fatto un'altra strada apposta per mi sono trovato macchine che arrivano giù vabbè ho preso l'oro sai che roba ok allora questa è finita qui perché a meno che siamo tutti a casa mia forse sì allora se siamo a casa mia non sospendo questo video e continuo vediamo vediamo com'è giubbottini o pochi vorrei avere anche gli snack non penso comunque adesso vediamo loro hanno preso i soldi perché queste missioni tutti prendono dei soldi io no perché perché praticamente praticamente io ho investito centomila centomila dollari cerchiamo allora gli snack sono lassù poi cosa devo prendere meno male i giubbotti e basta qua sotto ok intanto questa qua mi bastano l'armeria è qui a destra ecco quello con caccia che arriva ma dov'è a moon action qua ok mi faccio il versamento sono già qui madonna che casino guarda sì no su giù eh ho sbagliato via qui è dove l'è abbiamo le moto che fatica mi spara anche questo qui, stupido ok allora il video lo fermo qui e riprendo il prossimo da qui